Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Io sono un po' in difficoltà perché sulla monumentalità, sugli alberi monumentali è già stato detto quasi tutto. Io avevo preparato delle bellissime immagini da farvi vedere, le immagini bellissime di Andrea Scardova. Per chi è a casa questo sarà possibile, per voi sarà un po' più difficile, magari cerco di darvi qualche indicazione, visto che tutti avete il libro tra le mani, potrete se volete seguire. Sono molto contenta di essere qua a presentare questa pubblicazione che appunto, come già stato detto, raccoglie il frutto del lavoro di una campagna di documentazione fotografica che è durata circa due anni. All'uscita nel dicembre 2017 dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia per la nostra regione, naturalmente noi ci siamo concentrati ovviamente su quelli, ci siamo posti l'obiettivo di valorizzare questo patrimonio verde importantissimo, pressoché sconosciuto per i non addetti ai lavori. Molti di questi alberi, degli alberi monumentali d'Italia, non godevano già di un riconoscimento regionale e di una tutela regionale. Circa due terzi di questi alberi non erano contenuti all'interno della banca dati degli alberi tutelati dalla regione. E quindi per tanti, eccetto gli addetti ai lavori naturalmente, degli emeriti sconosciuti, ma con una caratteristica di monumentalità di un livello superiore a quelli che invece conoscevamo a livello regionale. Per cui era doveroso per noi trovare forme per farli conoscere e valorizzarli. Dicevo prima sulla monumentalità è già stato detto tanto, volevo fare solamente alcune riflessioni aggiuntive. Normalmente il concetto di monumentalità nell'immaginario comune è associato alle dimensioni, ma qui in questa sede è già stato detto che hanno anche altri valori, oltre a quelli della grandezza. Sono intanto delle piante molto rare, perché potenzialmente ogni albero che nasce, che germina, potrebbe diventare monumentale, ma veramente pochissime riescono a raggiungere queste dimensioni, perché si devono misurare con un ambiente non sempre favorevole per lo sviluppo. E poi l'albero si deve misurare anche con le relazioni che dovrà affrontare con noi, con gli uomini. Gli uomini si rapportano in generale piante con un atteggiamento utilitaristico, cioè si preserva e si favorisce quello che in un certo qual modo ci dà un ritorno utile per la nostra vita e per i nostri parametri. E molto spesso gli alberi sono stati sfruttati per ottenerne dei prodotti alimentari o di altra natura, legname, per ottenere dei servizi, diciamo, e nel momento in cui non ci servono più, molto spesso vengono eliminati. Non a caso, gli alberi monumentali di cui possiamo godere, che al momento appunto siamo riusciti a tutelare, si trovano o nei parchi storici, dove sono stati piantati tanto tempo fa con degli obiettivi appunto di portare bellezza e ombra, migliorare, costruire un bel giardino piacevole per famiglie facoltose che potevano appunto usufruire di queste situazioni e in questi casi naturalmente sono stati protetti e valorizzati, spesso a scopo privato purtroppo, oppure in contesti urbani sono stati posizionati nei giardini oppure nei grandi viali, ma laddove si trovavano in posizioni scomode per le nuove urbanizzazioni o per processi produttivi anche di tipo agricolo, nel passato non ci sono state remore nel disparsi di alberi che magari avrebbero potuto avere un futuro glorioso in termini appunto di monumentalità. Sono rarissimi, sono grandi e questa forse è la caratteristica più facile da percepire in un albero monumentale, le dimensioni, sono attempati, questo è già stato detto naturalmente per raggiungere dimensioni di questa portata devono poter vivere a lungo, ma sono attempati, cioè vecchi, quindi sono grandi ma sono anche fragili e quindi deve passare anche il concetto che comunque un albero monumentale va salvaguardato ma non può essere eterno e quindi anche rispetto a moti di, diciamo, fortemente motivi di protezione a oltranza di alberi che magari si trovano in situazioni dove creano pericolo o veramente diventa difficile il mantenimento in certi contesti molto antropizzati, dobbiamo valutare anche la possibilità che non sia possibile conservare naturalmente bisogna fare l'impossibile, però può capitare, non sono eterni anche perché sono alberi vecchi è già stato detto e sono alla fine del loro ciclo di vita molto spesso, quindi sono dei soggetti fragili che possono ammalarsi, possono avere problemi di staticità e non sempre questi problemi sono risolvibili quindi sono sì dei monumenti, ma essendo dei monumenti vivi sono dei monumenti che devono essere devono trovare un loro equilibrio con l'intorno e anche devono convivere con anche altre esigenze sono anche monumenti molto esposti ai problemi di natura climatica noi per esempio, è già stato detto che nell'elenco del 2017 gli alberi monumentali d'Italia erano 107 e che oggi sono 103. Io ho voluto fare un necrologio degli alberi che abbiamo perso degli alberi monumentali d'Italia che abbiamo perso, mi dispiace che non riesco a mostrarvi le immagini ero riuscita a recuperare un'immagine per ciascuna di queste piante però ve li voglio citare perché fino a qualche anno fa facevano parte di questo elenco e avevano un'esistenza importante per i contesti in cui si trovavano abbiamo perso questi quattro alberi, il cedro del Libano che si trovava ai giardini Margherita della città di Piacenza, questo albero si è schiantato nell'inverno scorso a seguito di una grossa nevicata abbiamo perso una roverella che si trovava a Bobbio se aveste potuto vedere la presentazione della dottoressa Canini l'avreste potuta vedere sdraiata per terra praticamente una tromba d'aria la sradicata e appoggiata tal quale integra dove vegetava io e Andrea Scarbo abbiamo avuto l'avventura di poterla fotografare ancora in piedi perché è stata una delle prime piante che siamo andati a verificare e quindi purtroppo non ho messo i necrologi sul libro perché il libro è stato dedicato alle piante che esistono oggi però chi è a casa può vedere in basso a sinistra la roverella ancora in piedi il terzo albero che volevo citare è un piopo bianco che si trovava a Baricella in via Giovannini in questo sito i piopi tutelati erano due due piopi bianchi entrambi a breve distanza uno è ancora vivo e lo potete vedere nel libro nella parte dedicata alla provincia di Bologna naturalmente e l'altro nell'immagine lo si vede sullo sfondo al momento è un tronco rinsecchito alleggerito delle branche laterali ancora in piedi finché resiste è in mezzo a un campo e quindi ci si può permettere di lasciarlo in piedi quindi quando crollerà non procurerà danni a nessuno il quarto albero deceduto diciamo così è un olmo campestre che si trovava a Castelnuovo Rangone questo albero è morto per una patologia la grafiosi che ha praticamente decimato la maggior parte degli olmi della regione in particolare quelli di grandi dimensioni questo era un albero enorme ma non ha potuto resistere a questa malattia una notizia che mi è stata data oggi è che abbiamo perso un altro albero monumentale d'Italia questo invece c'è nel libro perché fino a qualche giorno fa era ancora in piedi ed è una roverella che è in provincia di Bologna che si trovava a Dozzano Emilia non ho notizie dei motivi della caduta dell'albero poi avevo preparato qualche tabella con dei dati che però avete già sentito la ripartizione sulle province, la ripartizione per specie qui in Sorvolo sul concetto di monumentalità volevo dire ancora qualcos'altro la monumentalità è quindi un attributo multidisciplinare abbiamo gli aspetti naturalistici, la rarità botanica ma abbiamo l'architettura vegetale dell'albero l'età abbiamo detto, l'età che normalmente supera sicuramente supera il centinaio d'anni molti alberi hanno centinaia e centinaia d'anni è stato già detto è stato già accennato al Cipresso di San Francesco che è valutato essere l'albero più vecchio della nostra regione è stata stimata a un'età di 800 anni perché si narra che sia stato piantato dal santo in persona e quindi l'albero dovrebbe essere coetaneo alla struttura, alla costruzione del convento all'interno del quale è ospitato spesso gli alberi monumentali hanno anche un valore identitario per il territorio come appunto anche questo Cipresso insomma tanti altri rappresentano delle storie fondamentali importantissime per il territorio locale e quindi c'è un'affezione particolare della comunità nei loro confronti che vede nell'albero la propria storia le proprie radici il pregio paesaggistico dell'albero qui è stato già accennato e che è contemplato dal codice dei beni culturali e più genericamente ogni albero di questa portata si porta dietro a un valore storico, culturale ci racconta delle tradizioni che diciamo travalicano le singole generazioni umane l'albero monumentale vivendo centinaia e centinaia di anni traghetta storie, tradizioni, culture modi di vivere da una generazione all'altra e quindi l'albero se lo sappiamo leggere ci racconta del nostro passato e ci racconta anche di come si è trasformato il territorio cambiando l'uso del territorio anche col modificarsi delle urbanizzazioni l'albero è spesso legato anche a delle tradizioni religiose e qui nella mia presentazione avevo preparato un paio di immagini che testimoniavano proprio questa propensione questa attitudine allora se voi volete andare a vedere in provincia di Bologna l'acero di Madonna dell'acero del santuario di Madonna dell'acero che credo per chi abita a Bologna è un'istituzione insomma tutti conoscono questo santuario è il più importante dell'appennino bolognese nel sagrato campeggia un acero per la verità allora siamo a pagina 87 per la verità piuttosto malmesso ma viene attribuita a questa pianta un'età di 500 anni e tutto il territorio praticamente associa il santuario a questa pianta della pianta è rimasta una piccola parte della chioma una branca portante il resto è stato tutto perso ma viene tenacemente conservata con una specie di stampella una struttura in legno che sorregge questa pianta che sicuramente questa branca che sicuramente si sarebbe già schiantata e l'altro esempio era quello sempre del cipresso di San Francesco qui se volevate vedere un'immagine è in fondo al libro a pagina 254 e si vede anche in questo caso una struttura in questo caso metallica che sorregge la pianta che è già parzialmente disseccata per una metà della pianta non è più vitale l'albero si è inclinato ma viene sorretto e resiste nonostante l'età ecco ancora un paio di osservazioni scusate sul discorso della monumentalità volevo dire che la monumentalità è un concetto potenziale non è un dato di fatto assoluto definitivo l'albero abbiamo detto un essere vivente che evolve nel tempo e che si confronta con le situazioni ambientali e con le condizioni con le quali viene gestito si ammala può morire quindi le liste degli alberi monumentali d'Italia è già stato detto possono dalle liste possono essere depennate alcune piante perché possono morire nuove piante verranno inserite la natura comunque garantisce ad ogni albero la possibilità di diventare monumentale è l'ambiente e l'uomo che possono condizionare questo processo proprio per mettere a fuoco quelle che potrebbero essere le condizioni ideali per permettere ad un albero di diventare monumentale di qui a qualche secolo l'università di Padova ha studiato e messo a punto un progetto che si chiama progetto 400 che sta a punto diciamo che si è avviato da un paio d'anni arriverà a compimento fra generazioni e generazioni di uomini speriamo che ci sia una continuità su questo progetto ma l'obiettivo sarebbe proprio quello di traghettare qualche albero giovane piantato di recente in condizioni che si suppongono ideali per questa evoluzione per divenire monumentali e portarlo appunto a divenire monumentale fra qualche centinaio d'anni è un progetto decisamente ambizioso però è molto stimolante e vedremo come andrà a finire di fatto le conoscenze tecniche che oggi abbiamo per la gestione degli alberi dei grandi alberi sono ormai molto evolute ci permettono di rapportarci a loro in un modo rispettoso e quello che manca forse è proprio la dimensione culturale l'orizzonte culturale idoneo per poter approcciarci all'albero intendo come comunità naturalmente per poterci avvicinare all'albero con un atteggiamento rispettoso questi due fattori le conoscenze tecniche e diciamo un'evoluzione culturale che poco alla volta si produrrà cioè questo libro è un piccolo chicco che buttiamo in quel senso insomma su quel percorso potrebbero essere potrebbero garantire la possibilità di avvicinarci agli alberi in un modo etico che tenga presente il fatto che gli alberi sono degli esseri viventi e che come tutti gli esseri viventi hanno delle esigenze di vita hanno dei bisogni e nella misura in cui conosciamo questi bisogni e li vogliamo rispettare sicuramente diamo un futuro a questi alberi ecco e un'altra osservazione che volevo fare sempre sulla monumentalità l'ultima generale è questa negli elenchi degli alberi monumentali d'Italia ma anche in quelli regionali i grandi assenti sono le specie frutticole praticamente poiché è facile pensare alla monumentalità in senso di dimensioni probabilmente gli alberi sono stati cercati laddove vediamo degli alberi molto grandi dove è più facile riconoscerli proprio per questa caratteristica che è quella più facile da percepire in realtà in un'ottica diciamo di integrazione di questo riconoscimento al mondo vegetale di questo riconoscimento della monumentalità del mondo vegetale noi dovremmo valutare anche le dimensioni della pianta rapportate alla propensione di crescita della singola specie e allora nella mia presentazione a questo punto vi facevo vedere l'unico pero dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia per la nostra regione ed è il pero di Lama Mocogno che trovate se volete vedere in provincia di Modena a pagina a pagina 154 allora questo è un pero che è alto quasi 16 metri e ha una circonferenza del tronco di 2 metri e mezzo per un pero sono dimensioni enormi noi siamo abituati se pensiamo appunto a specie frutticole pensiamo ai peri siamo abituati alle piante sfruttate a scopo produttivo è chiaro che queste piante non hanno un futuro nell'ottica della monumentalità vengono potate molto pesantemente perché lo scopo è quello di farle produrre molto e insomma in un arco di tempo abbastanza limitato poi quando cominciano a non essere più super produttive oppure cambiano i gusti del mercato l'epilogo è la morte dell'albero viene eliminato però sul territorio esistono alcune piante che sono sfuggite a queste piante frutticole che sono sfuggite a questa logica magari perché si trovavano in contesti marginali rispetto alle produzioni o alle espansioni urbanistiche diciamo anche questo e che hanno potuto trovare le condizioni ideali per crescere secondo la loro propensione naturale e questo non è un esempio ma è l'unico che è stato rilevato all'interno del nostro elenco anche tra gli alberi monumentali regionali soltanto due peri io sono abbastanza afferrata sui peri perché ho fatto un lavoro specifico su questa specie però ho guardato anche dei meli per esempio non ce ne sono ma sul territorio esistono tante piante che possono avere queste caratteristiche dieci anni fa la regione Emilia-Romagna ha fatto con l'aiuto dell'associazione Patriarchi patriarchi della natura in Italia scusate ha fatto un censimento su tutto il territorio regionale che è scaturito nella pubblicazione di due volumi chi a casa li vede ho fatto una fotografia alle copertine anche questi come nel nostro caso pieni di schede relative al censimento di alberi da frutto di varie specie tutte piante che sono molto interessanti per le dimensioni anche per il valore storico e culturale che rivestono e arriviamo alla nostra pubblicazione questa pubblicazione come dicevo non vi farò vedere le immagini quello che dovevo dire l'ho quasi finito però avevo una bella carrellata di immagini questa pubblicazione come dicevo raccoglie il frutto del lavoro di due anni è stata realizzata a otto mani io e Carlo abbiamo curato i testi e come è già stato detto Andrea Scardova che ringrazio tantissimo ha fatto le foto e Gianna Daniele ci ha aiutato a fare la cartografia non è un libro scientifico è un libro divulgativo è un libro che vuole raggiungere un pubblico più allargato possibile per far passare per cominciare a far passare l'interesse e conseguentemente l'amore per questo patrimonio attraverso la conoscenza passa poi anche la voglia di tutelare il patrimonio quando non conosciamo una cosa non ci rendiamo conto di quello che abbiamo attorno e che magari anche stiamo perdendo o che magari maltrattiamo senza anche inconsapevolmente senza rendercene conto quindi l'obiettivo è sostanzialmente questo i testi oltre a qualche indicazione per riconoscere la pianta sapere le caratteristiche botaniche ma veramente di base di queste specie sono concentrati soprattutto sul valore che la pianta che le singole piante hanno come dicevo prima come elemento identitario per il territorio come contributo a disegnare il paesaggio nel quale si trovano cerchiamo di dare abbiamo cercato di dare un'interpretazione del perché quella specie in quel posto preciso abbiamo recuperato laddove era possibile informazioni della storia della singola pianta e delle comunità che ci hanno vissuto attorno a volte non era possibile perché alcune piante nascono in mezzo ai campi non riusciamo neanche a spiegarci come mai si sono salvate dall'evoluzione grandissima che c'è stato nell'uso del territorio però alcune ci sono riuscite quindi non abbiamo informazioni precise per quella pianta ma riusciamo a contestualizzarle in quel paesaggio e abbiamo recuperato storie collegate alle devozioni religiose ai miti alle leggende citazioni letterarie insomma ci si può cercando informazioni guardandosi attorno si può arrivare a capire quanto importanti sono gli alberi per noi in tutti gli aspetti della nostra vita non solo per diciamo le materie prime che ci possono fornire in campagna per esempio in molte corte coloniche era facile trovare un grande albero ad ombreggiare la casa il cortile ma aveva un significato importantissimo per la famiglia che abitava in quella corte colonica permetteva per esempio di superare la calura estiva da varistoro a uomini animali in estate ma questo è un modello che si ritrova ovunque nelle nostre pianure quindi insomma era una tradizione radicata e in genere sono sempre quelle due o tre specie che ricorrono il pioppo a volte l'olmo e così via insomma abbiamo cercato di dare una qualche una lettura di quello che trovavamo sul territorio e poi avrei avuto un sacco di immagini da farvi vedere ma non sto neanche a segnalarvele sul libro perché poi ve le guarderete con calma singolarmente volevo soltanto concludere se ho ancora due minuti con un'osservazione sul discorso della monumentalità allora la monumentalità abbiamo detto sta anche nel significato che può avere l'albero per la comunità al di là della sua grandezza al di là della sua bellezza e per il simbolo che a volte viene a rappresentare in quel contesto volevo portarvi due esempi velocissimi uno non è del nostro territorio ma secondo me è molto bello il platano di Anna Frank Anna Frank vedeva dal suo rifugio ad Amsterdam un unico elemento naturale da una finestrina dalla quale riusciva a guardare fuori vedeva un unico elemento naturale che erano le fronde di un platano che stava dietro dietro l'edificio nel quale appunto la sua famiglia si era rifugiata e nel diario ricorre mi sembra almeno tre volte parlando la citazione di questo platano che le dava sollievo le dava un momento di evasione diciamo allora nel 2005 questo platano era ancora in piedi e l'associazione Anna Frank ha riprodotto tante piantine dai frutti di questo platano e le ha regalate a istituti scolastici di tutta Europa agli istituti scolastici che portavano il nome di Anna Frank tre anni dopo il platano si è schiantato e quindi insomma in tutte queste piante che si sono disseminate in vari paesi d'Europa c'è questa continuità di un messaggio importante che continua ad avere un valore per la comunità di Amsterdam ma di tutti noi che abbiamo vissuto la tragedia della guerra e tramite il diario di Anna Frank insomma abbiamo conosciuto anche il risvolto umano di grande sofferenza che ha provocato questa cosa nelle singole famiglie ma in quelle piantine continua ancora il messaggio di Anna Frank ad arrivare ai ragazzini delle scuole che l'hanno ricevuto il secondo velocissimo ci riguarda allora si tratta di un pero ancora una volta un pero ornamentale che si trovava ai piedi delle torri gemelle a New York è stato praticamente sommerso e massacrato dal crollo delle torri nel 2001 l'11 settembre con l'attentato però a distanza di un mese è stato ritrovato ancora vivo e subito su questa pianta si è catalizzata l'idea di tutta la comunità new yorkesa come un simbolo di rinascita e quindi una grossa speranza della possibilità di vita di questa pianta la pianta è stata asportata dalla sede in cui viveva è stata portata in un vivaio dove è stata curata per nove anni e poi si è ripresa è stata rimessa là dove vegetava prima quindi oggi si può andare a vedere questa pianta che si è caricata di questo simbolo importantissimo per tutta la comunità figli di questa pianta sono stati riprodotti da New York e uno di questi piccoli alberelli è stato regalato al comune di Bologna l'anno scorso ed è stato piantato a conclusione delle cerimonie della strage del 2 agosto e alla presenza del vice sindaco di Bologna e di Paolo Bolognesi il presidente dell'associazione dei caduti delle vittime del 2 agosto e quindi lo possiamo andare a vedere anche noi anzi vi invito ad andarlo a vedere dentro il giardino che Bologna aveva dedicato all'11 settembre 2011 è stato regalato in una sorta di gemellaggio una parola un po' pomposa insomma in una sorta di riconoscimento di un destino tragico che ci accomuna con la comunità di New York e nella mia presentazione c'è una foto di questo alberello scattata 4 giorni fa vi invito tutti ad andarlo a vedere anche questo secondo me è monumentalità di un albero grazie grazie a tutti grazie a tutti